Jack! Faith! Che succede? È personale. I garrison meritano la prigione. I miei giorni nella polizia sono finiti. Cosa hai fatto? Si è spezzato un cavo metallico. Si è rotto una sale di un carro delle consegne. Prima è il signor Colter che si fa male, ora questo. Wow, la fortuna dei principianti. Non puoi impedirmi di preoccuparmi per la tua sicurezza. La serie Quando chiama il cuore. I nuovi episodi. Domenica alle 21.20.